yeee è finita benvenuti in kiwi benvenuti ragazzi benvenuti in questa ottava e ultima puntata del contadino cerca moglie oppure in amicizia tra noi o zappatura zappatrice ok ragazzi quindi oggi è una puntata proprio di quelle di quelle finali dove scopriremo se il contadino si sarà presa alla ragazza che gli stava a far filo anche se ci stanno certe aneddoti oggi guarda che boh vabbè non vi spoilerò niente perché me l'hanno raccontata e quindi ancora non l'ho vista la sto vedendo in questo momento insieme a voi più o meno ok ragazzi iniziamo subito a questa reaction ma prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale attivare la campanellina mettere like al video commentare e condividere dai ragazzi dai 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 prima di iniziare vi volevo scusare per i minuti che questo video probabilmente sarà un po più lungo del solito ma che dobbiamo fare ragazzi è l'ultima puntata non potevo non potevo tagliare di più ragazzi non potevo davvero quindi mi scuso in anticipo per i minuti che saranno tipo una ventina più o meno però dai ragazzi che se fanno proprio le ultime risate così proprio a go go proprio oltretutto mi sono pure messo in giacca e cravatta bello preciso tutto bello tutto elegante tutto caruccio tutto caruccio tutto vettinato ok iniziamo subitissimo questa ottava e ultima puntata del contadino cerca moglie questa sarà l'ultima imperdibile puntata per l'ultima volta salutiamo pure sto gallo che c'è canta non lo so se devo chiamare anche in questo caso l'ambulanza voglio ingrassare come un maiale non voglio più nessuno nella mia vita voglio morire sola si si magna 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 e ma questo me lo bevo alla facciazza loro io credo che quella bottiglia l'abbia terminata cioè secondo me la valentina la meno adatta a essere qua io quella è la cosa che penso veramente sotto che punto di vista di stile di vita non credo sia la cosa giusta da dire a un appuntamento buona buona pepatate cozze marron lui durante la notte ha cercato molto il contatto fisico a me piace cioè si è stati tutta la notte abbracciati magari ci giravamo però cercava sempre è stato molto bello perché è e te credo cercava il contatto fisico e ti è piaciuto e ci mancherebbe e vorrebbe indire vado un attimo al distributore del latte ah proprio così proprio così alla nudi e crudi proprio proprio direttamente alla fonte ho capito mi sono vestita di nero perché sto in lutto e mi sono fatta f***a perché io le affronto così le cose addirittura cioè non sono del tutto sicura che mi scelga perché lui ha sempre un po' questa paura questa sua insicurezza io ho dato veramente mi stessa mi dicevo ho dato veramente tutta mi stessa e vabbè esce credo che hai dato tutta a te stessa ci fa piacere ma ma mi sa che lui non lo vedo tanto per la quale vabbè aspettiamo la fine aspettiamo la fine c'è nessuno? questo? e dove sta Michele? mi deve pure il caffè che accoglienza Gabriele fai come se stia a casa tua ah mo gli ha portato pure il caffè se bevono sto bel caffettino così e mo mo gli mo gli deve di ah ciccio devi scegliere eh devi scegliere una mi raccomando mi raccomando dicevamo Martina e Valentina sono le due possibilità se la tua scelta è Martina devi andare alla stazione se la tua scelta è Valentina devi andare nel bosco dove la sei andata a prendere la prima volta oh cosa sceglierà? chi sceglierà? sei pronto? vai vado vai bocca al lupo oh dai 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 vediamo chi sceglie oh ha scelto il bosco quindi Valentina ma ci sarà? oh oh carini che carini l'ho aspettato e mo? e adesso? ma? e finisco la scuola e vengo qua io ti aspetto eh 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 e aspetta e spera aspetta e spera ciao come state? ma io sono molto felice spero veramente che tutto vada per il meglio che questo sia solamente l'inizio è stato un piacere e un onore per me oh ciao grazie è stato un piacere anche per noi seguirvi eh mi raccomando aspettala eh mi raccomando grazie comunque per tutto quello che mi hai trasmesso ho capito comunque tanto oh questa è quella che proprio mi piace io già me già me viene da ridere oh ciao 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 siete delle donne fantastiche veramente anche tu sei una fantastica ad oggi io riconfermo quello che ho detto i primi giorni ovvero che per me è stato proprio un colpo di fulmine in tutti i sensi eh vabbè dai 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 che ora ti sceglie sono sicuro che che ti sceglie dai 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 allora Emanuele come stai? beh bene bene un po' confuso sei confuso però ho tante emozioni non me l'aspettavo così eh vabbè non ti aspettavi tanto confuso fino all'ultimo secondo confuso dai però una ne devi scegli mi raccomando fai la scelta giusta qual'è stato il momento più emotivamente coinvolgente che hai avuto con Sara con Sara ci sono stati tanti momenti ebbè sono stati tanti bei momenti e anche con Martina però hai avuto un momento di grande intensità emotiva no? sì sì con Martina si accarezza gli asini accarezza i caproni vabbè sono confuso tanto hashtag sono confuso se tu scegli Martina Martina ti aspetta nella spiaggia in cui vi siete baciati mi raccomando poi se invece scegli Sara Sara è nella città vecchia mi raccomando vai alla città vecchia io tipo per Sara guarda tanta confusione e non so cosa fare se il cuore in questo momento gli dice prenditi del tempo tu torni qui no quindi si può pure fare sta cosa si può anche tornare indietro non scegliere come un verme dai 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 chi sta facendo la scelta dai dai io non mi sento di andare a questo appuntamento perché lui abbia deciso di tirarsi indietro in primis ma lo sapevo lo sapevo che questo faceva una cosa del genere oh è andato è andato alla città vecchia bravo bravo eh ma che non è la città vecchia però Emanuele lo immaginavo no vabbè cioè quello è tornato indietro è tornato ma che te dice il cervello azi non si è sentito pienamente bene con nessuna dietro cioè questa è una cosa proprio che fa ancora più male è certo e te credo almeno quella diceva vabbè ho scelto quella ho scelto quella quello invece proprio non ha scelto nessuno ho scelto di di non scegliere no Maria io esco azi ma che c'è ma che c'è 10 anni ma manco mi cugino è una scelta come ti dicevo prima perché non voglio ferire e ho paura di essere ferito anche io a me ma parla strunza dai e zi dai ma che sta a dir dai e zi ma manco mi cugino è 10 anni non voglio ferire non voglio ferire penso che mio fratello debba prima lavorare su se stesso e poi pensare a una persona eh ma deve lavorare bene da uno bravo su se stesso eh ma da uno bravo oh wow e c'è anche l'idromassaggio qui ma quindi quindi che si fa e non lo so vuoi il disegnino aspetta che ti faccio il disegnino eh questa bellissima sorpresa eh grazie oh è famosa sta ambreagata dai 10 mh balla a bollare oh dai dai oh mo se mettono l'idromassaggio se fa una pedicure se si iniziano a fare valigie se iniziano a fare dai sceglierò la ragazza che mi ha dato di più anche se in un modo o nell'altro tutte e due mi hanno dato tanto oh mi raccomando Lore mi raccomando scegli giusto eh come va posso abbracciare mi sono lasciato completamente andare e ti sei lasciato andare si si è visto diciamo eh bello proprio libero libero Lorenzo Lorenzo adesso è il tuo momento il momento forse più importante di tutto questo periodo e della tua avventura qui al contadino cercano mi raccomando Lore mi raccomando se scegli Gabriella se scegli Gabriella devi andare al parco di Gropina se invece scegli Michela devi andare nel borgo di Loro Ciofena Gattetto eh il borgo di Loro Ciofena ok vai vai parti boccanucano io ti aspetto qui eh vai speriamo di trovare il posto vai scatta vai 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 oh mi raccomando Lore scegli giusto mi raccomando eh maro questo gioco sicuramente va dei testosterone parte speriamo di chiudere in bellezza possibilità c'è di prendere un pale eh se prendi se prendi qua giusta forse no pi forse finalmente la scena scelta giusta fatta brava Lore bravo bravo Lore ho sperato ho sperato che piava Michela ah meno male meno male meno male è lei la mia peregina ah meno male meno male che si è trovato la peregina vabbè dai bravo bravissimo ragazzi siete bellissimi siete bellissimi grazie di tutto grazie a voi grazie davvero grazie a voi grazie anche da parte nostra che ci avete fatto passare ste belle giornate eh eh mi mancherà tutto oh che cucciola gli mancherà tutto sono in ansia sono in ansia perché magari quando uno poi deve prendere una decisione è arrivata la fine c'ho l'ansia sì c'ho un po' d'ansia ma io vivo di ansia ebbè hashtag ansia è stata un'esperienza bellissima spero di rivedervi ciao grazie di tutto grazie a voi oh se salutano tutti quanti amorevolmente mi raccomando martin mi raccomando vabbè io sono indeciso sinceramente su stavolta sono indeciso lui mi piace ovviamente non posso dire mi sono innamorata però potrei innamorarmi di una persona come lui perché è veramente una persona pura vera che è quello che io cerca che dolce sto a Nadia proprio una dolcezza Martino buongiorno come stai benissimo si può certamente vieni vieni oh è arrivato Gabriele caro Martino se la tua scelta è Melissa ti aspetta alla panchina gialla famosa dell'appuntamento ok se poi Nadia invece ti aspetta in piazza a Borno e quindi chi sceglierà stavolta sono combattuto vai Martino in bocca all'uvo e buon amore comunque vada vai eh non lo so raga non lo so stavolta sono indeciso pure io eh sì oh ecco 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 sta arrivando con la macchina sta arrivando oh sta lì sta lì nascosta l'avete vista sta lì quatta quatta nascosta dietro mi hai fatto stavolta per farmi morire eh mi fanno che ho gli arzi tutto il vestito gli arzi poi si vede tutto tutto il ben di dio da quando mi era crollato il mondo addosso mi sono mi si è aperto un mondo davanti oh che dolce che dolce mamma mamma te lo sei meritato questo si guarda te lo sei proprio meritato sì eh non sono stato bravo forse hai capito chi è veramente Martino oh tutto è bene quel che finisce bene un po' me dispiace per Nadia sinceramente va bene corella tutta buona tutta dolce tutta caruccia un po' me dispiace devo dire la verità bene tutto bene bene grazie allora c'era eh ma me l'avevano era stava nascosta eh gli aveva fatto scherzetto dietro all'albero gli aveva fatto siete due persone bellissime comunque vada io vi auguro di essere felicissimi e come dico sempre che la felicità vi perseguiti ovunque andiate auguri 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 bravi 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 oh grazie mille ragazzi grazie mille di averci ha fatto fare passare ste giornate insieme a voi l'avventura di il contadino cerca moglie si conclude nel migliore dei modi abbiamo riso abbiamo pianto e abbiamo scoperto dei luoghi incredibili e ora non mi resta che augurarvi buona vita e buona campagna a tutti oh grazie mille grazie grazie e buona vita buona campagna tut coast a tutti quanti grazie mille grazie ragazzi e quindi questa ottava e ultima puntata del contadino cerca moglie finisce qui abbiamo visto chi alcune scelte alcune ritirate che non ho capito cioè quello cioè facendo il punto della situazione della situation cioè quello là ha detto sono confuso però se si è fatta la nottata con Sara la prima pomiciata con Sara la seconda e la terza pomiciata che voi fate più gli mancava solo che la metteva incinta forse forse era ancora confuso non si sa non si sa mancava cioè solo quella mancava cioè vabbè pur con quella ha detto con quella ha avuto dei momenti si ha a carezzare i capri vabbè vabbè ognuno c'ha le cose sue però so confuso hashtag confuso vabbè raga vabbè però poi le altre scelte dei contadini me so piaciute dai me so piaciute con l'ollo sinceramente stava suda freddo che faceva a cazzata stavo sincero eh pensavo facesse la cazzata Lorenzo eh sinceramente però ha scelto bene bravo Lorenzo bravo poi invece Michele vabbè quello se vedeva quello dalla prima puntata era c'estava dietro a Valentino non era non era Valentina che andava dietro a lui era lui che andava dietro a Valentina cioè è diverso però vabbè ognuno ha le cose sue vabbè e Martino 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 era indeciso sinceramente sinceramente su Martino era abbastanza indeciso perché pure Nadia era 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 molto amorevole gli andava gli piaceva però Martino si vedeva comunque a quella a Melissa ha detto eh questa donna una donna così per tutta la vita ma zi vola basso zi dai vabbè ragazzi un po' mi è dispiaciuto per Nadia sinceramente vabbè camma fa si troveranno altri zoppatori o contadini che dici vabbè ragazzi e quindi vi saluto con questa ultimissima puntata dello zoppatore la zappatrice cioè sarebbe il contadino cerca moglie e quindi vi saluto con questa bella mise elegante giacca e cravatta vi saluto e ci vediamo al prossimo video e ricordatevi di iscrivervi al canale attivare la campanellina mettere like e commentare e condividere mi raccomando ragazzi ve guardo a tutti quanti e dai e alla prossima puntata ciao cari ciao 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 Grazie a tutti.